Questo di oggi sarà un video relativamente breve ma che porta una tematica molto importante che ammetto ci ho messo un attimo a sintetizzare perché è una cosa che ho dato anche per scontato per un bel po' di tempo e che soprattutto ha riguardato me anche in primis da vicino negli anni in cui facevo soprattutto l'artista principalmente, quindi prima di imbarcarmi nell'avventura e nel ruolo di fare il produttore artistico e mi rendo conto che molti artisti proprio come me allora sono convinti che per poter fare uno step up con la propria musica, per poter fare uno step up con i propri brani gli serva qualche nuovo gadget, magari lo strumento esoterico, l'effetto nuovo, il plugin più figo o magari per qualcuno è andare in uno studio di registrazione top della gamma, per qualcun altro è un arrangiamento fatto meglio cosa già non scontata perché l'arrangiamento presuppone già mettere la propria musica in mano agli altri però la questione è che nessuno di questi elementi è veramente funzionale se la struttura dei tuoi brani non è al 100% a posto se la struttura dei tuoi brani non è totalmente consolidata non c'è arrangiamento, non c'è suono, non c'è effetto che tenga e adesso qua mi sembra già di sentire la tua obiezione, mi sembra già di sentirti dire ma la struttura dei miei brani è a posto è già a posto così, la mia canzone è finita lo pensiamo tutti o quasi tutti e ricordo con un sorriso oggi quando successe a me che qualcuno mise veramente in discussione la struttura di una mia canzone stavo lavorando con un produttore artistico, quando facevo io l'artista appunto e avevo questa canzone in cui io avevo costruito questa struttura in cui avevo un ritornello, avevo una strofa, un preritornello, di nuovo il ritornello insomma una struttura di una canzone che mi sembrava a posto così e lui mi disse guarda che quello che tu chiami ritornello, ritornello non è e dopo un po' mi toccò proprio con un sorriso da scemo ammettere che effettivamente avevo preso un abbaglio cosa era successo con quella canzone? Che quella che io chiamavo ritornello in realtà lui mi fece capire che era un intro o una strofa zero chiamiamola e mi disse guarda che tu hai un tuo sviluppo narrativo emotivo che ti porta da questo intro, questo inizio in cui ci proietti in una situazione poi hai una strofa, cominci a raccontare la tua storia, cominci a scaldarti e poi torni alla situazione iniziale non permetti alla tua canzone di esplodere, non permetti a te stesso di esprimerti veramente al massimo né a livello testuale né a livello emotivo e mi disse guarda ti do una settimana per costruire anche magari non definitivo dal punto di vista del testo ma un ritornello per questa canzone e lì per lì rimasi un po' scioccato e pensai ma che palle ma poi perché? A me sembra perfetta questa canzone, che cosa c'è che non va? Però dissi ok va bene voglio fidarmi e voglio fare questo esperimento mi presi quella settimana, mi misi lì, pensai a cosa avevo raccontato e mi resi conto che effettivamente avrei potuto esprimere di più andare di più, in quel caso dovevo tirar fuori più rabbia, dovevo tirar fuori qualcosa di più su quella storia che mi era pesata così tanto e scrissi questo ritornello e oggi quando riascolto quella canzone non riesco più a immaginarla senza quel ritornello non riesco più a immaginarla con la struttura che aveva prima di quel confronto e guarda che è così che si cresce, è con queste mazzate iniziali un po' che feriscono l'ego che si cresce veramente perché è attraverso il confronto con altre persone, con altri professionisti che troverai veramente la tua identità come artista e il tuo sound, la tua identità sonora è attraverso il confronto che tu validi un'idea e ti rendi conto se la tua idea è veramente forte se la tua struttura è veramente perfetta o se effettivamente hai preso un abbaglio se effettivamente c'è qualcosa che non avevi considerato che si può mettere a posto perché è estremamente difficile quando sei l'artista e hai scritto il tuo brano riuscire a distaccarti dal modo in cui sei abituato a sentirlo e capire che si può metterlo a posto in modo che risulti più espressivo e questa cosa non riguarda sistemare la struttura non riguarda cercare di rendere il brano più commerciale o altre cazzate del genere riguarda proprio riuscire a tirar fuori di più l'espressione a rendere quel brano più funzionale al racconto di quello che tu hai da dire all'esposizione dei tuoi concetti e quindi di fatto di quello che hai nell'anima che hai bisogno di tirar fuori come artista e proprio perché mi sono reso conto della difficoltà di questo step e di quanto sia in realtà cruciale per poi tutto quello che saranno le scelte sonore di arrangiamento, di produzione che arriveranno dopo ho creato un esercizio basato proprio sulla costruzione e sulla destrutturazione di un brano e quindi torniamo di nuovo al discorso degli esercizi se hai visto i miei video precedenti sai che in questo periodo sto proponendo alcuni esercizi gratuiti per scegliere brani reference, per scegliere i brani da portare in preproduzione e poi in produzione e in questo esercizio invece quello che ti chiedo di fare è prendere una tua canzone a scelta una canzone possibilmente inedita e non ancora del tutto sviluppata o comunque non ancora prodotta e sezionarla nelle sue varie parti quindi capire quali sono i blocchi che la compongono dividerla in blocchi e dare un nome a ognuno di questi blocchi quindi a prescindere che abbiano testo o meno quindi capire, ok, dargli un nome questo è l'intro, questa è la strofa, questo è un ritornello questo è una variazione, un mid late, un bridge qui c'è un assolo, poi c'è un finale insomma dare un nome a ognuna di queste parti e capire, proprio scrivendotelo su un foglio bianco ognuna di queste parti che tipo di emozione trasmette qual è il suo livello di impatto emotivo e qual è il suo contenuto quindi a livello testuale ma anche non anche proprio a livello concettuale capire ognuna di queste parti qual è la sua intensità e qual è il suo contenuto e soprattutto qual è la relazione tra questi blocchi quindi se questa ad esempio è la strofa e questo è il ritornello capire perché questo è un ritornello se è veramente un ritornello e come si relaziona con la strofa quindi proprio come evolve la narrazione all'interno della tua canzone in questi blocchi e dopodiché poi prendi queste tue valutazioni questo tuo scritto queste tue considerazioni sulla tua struttura e mandamele insieme al tuo brano da sentire naturalmente lo ascolterò molto volentieri e ti farò una valutazione assolutamente senza impegno e ne potremo parlare uno a uno in una videochiamata privata e tra l'altro questo esercizio è sì importante ma ci tengo ancora una volta a specificare come ho già fatto in altri video precedenti che in realtà poi quando si va avanti nella produzione non è il singolo brano a fare veramente da linea guida perché ogni brano è sempre inserito all'interno di un concept più grande quindi può essere ad esempio un album, un EP la scaletta di un concerto o comunque magari anche soltanto il concept di un gruppo di brani che tu decidi di produrre per raccontare una certa tematica per affrontare un certo tema che ti sta a cuore che vuoi tirar fuori solo che visto che ragionare sul concept e sull'insieme di brani è ancora più complicato intanto io quello che ti consiglio di fare è scaricarti questo esercizio che trovi nel link in descrizione di questo video e svolgerlo per iniziare così cominciare ad approcciare l'idea di destrutturare il tuo brano e capire quali sono i mattoni che lo tengono in piedi perché tutto quello che sono le scelte sonore sono degli abbellimenti del brano l'arrangiamento del brano è come se fosse un po' l'arridamento di casa tua ma se la casa non sta in piedi bene è inutile arredarla cioè se non c'hai neanche il tetto non puoi pensare di già mettere il tavolo, le sedie, il divano e la televisione in casa tua prima devi far sì che la tua casa stia in piedi quindi comincia a identificare quello che sono le fondamenta i muri, il tetto quindi gli elementi che effettivamente tengono in piedi la tua canzone le permettono di essere effettivamente una canzone che funziona dal punto di vista proprio espressivo narrativo tuo io spero di averti portato uno spunto interessante ti invito a fare questo esercizio e spero di ricevere presso le tue risposte per parlarne per sentire la tua canzone ti ringrazio per l'attenzione ci vediamo alla prossima grazie a tutti grazie a tutti